Royalty, incentivi, facilitazioni, il dossier del WWF sulla petrolizzazione in Abruzzo, ma a chi conviene? Noi riteniamo che non convenga proprio a nessuno, abbiamo nel corso degli anni dimostrato come questa deriva petrolifera che sta colpendo la nostra regione dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche economico, perché contrasta con tutta una serie di iniziative locali sul territorio come il turismo e l'agricoltura, è assolutamente perdente. Ma anche dal punto di vista delle entrate che lo Stato, le regioni e i comuni attraverso il sistema di Royalty possono ricevere, anche da questo punto di vista ci troviamo in una situazione assolutamente deficitaria. Consideriamo che negli ultimi anni, ogni anno, la regione Abruzzo ha ricevuto soltanto qualcosa come 250.000 euro da tutte le attività che si svolgono, questo perché in Italia esiste un sistema di fortissime sensioni per quanto riguarda le Royalty, di agevolazioni che le compagnie petrolifere ricevono e si va quindi esattamente contro quello che dovrebbe essere lo sviluppo di fonti rinnovabili e invece si continua a privilegiare le fonti cosiddette fossili. Da questo punto di vista noi crediamo invece che l'Abruzzo debba fare una scelta completamente diversa ed andare verso un'economia basata sulla sostenibilità. Quali sono le altre particolarità di questo dossier? Il dossier analizza appunto quella che è la situazione per quanto riguarda l'Abruzzo tracciando sia il quadro di tutte le richieste che sono pervenute fino ad oggi. Ricordiamo che il 50% del territorio abruzzese è interessato da istanze che riguardano appunto l'idrocarburi e a mare ci sono 6.000 km2 di mare antistante alla costa abruzzese interessate da altrettante richieste. E quindi tracciamo questo quadro e facciamo vedere come analizzando caso per caso attraverso quelli che sono i dati ufficiali dello sviluppo economico in moltissimi, praticamente nella quasi totalità delle coltivazioni esistenti non vengono pagate i royalties né allo Stato, né alla Regione, né al Comune perché appunto ci si avvale di questo sistema di esenzione che prevede una franchigia per cui fino a un certo quantitativo di materiale estratto non si paga nulla né allo Stato, né alle Regioni, né ai Comuni.